Eccoci qua, effettivamente nell'occhio quando abbiamo delle manifestazioni oculari dobbiamo sempre chiederci, soprattutto quando abbiamo queste manifestazioni oculari nei bambini, nelle persone giovani, dobbiamo sempre chiederci se ci possono essere delle concomitanze con malattie reumatiche. A volte si vedono questi bambini che apparentemente sembra che non abbiano niente, poi invece si scopre, andando avanti negli accertamenti, che di fondo hanno delle malattie reumatiche. Per cui ogni interessamento oculare generalmente viene sempre visto dall'oculista in maniera particolare, soprattutto quando ci sono delle infiammazioni a carico del segmento anteriore per l'occhio. Le malattie reumatiche che coinvolgono principalmente l'apparato oculare sono l'artrite reattiva, la sindrome di Bechet, la sindrome di Chogren, la spondiloartrosi di giovanile, la sindrome di Kawasaki che chiaramente non abbiamo messo perché non siamo orientali, quindi non è stata messa, e l'artrite idiopatica giovanile. Avanti. Le patologie infiammatorie che coinvolgono l'occhio sono una manifestazione importante di molte malattie pediatriche, come dicevamo prima. Prima c'era una signora che diceva che le malattie reumatiche sembra sempre qualcosa che sono allo studio, che sembra sempre una novità. Si sa che sono vecchie, si sa che è da tanto che le curano, ma sembra sempre che siano qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa di nuovo da studiare. In realtà, in questa osservazione che lei ha detto, forse con un po' così di rabbia, perché a volte non si trova subito la terapia più appropriata, in realtà c'ha ragione perché, in particolare per quanto riguarda l'apparato oculare, queste manifestazioni sono sempre abbastanza diverse l'una dalle altre. Per esempio, basta a volte una vita migliore per modificare l'andamento o la terapia di queste patologie. Quindi, in realtà, magari si parte con una terapia ad alto dosaggio perché la paziente è in un periodo poco felice della vita, magari migliora molto il suo periodo della vita e automaticamente anche il decorso infiammatorio oculare va di pari passo modificandosi, migliorando. Quindi quello che si diceva prima, che i colleghi dicevano prima, se miglioro la mia qualità della vita, miglioro la mia aspettativa, miglioro il mio andamento, la mia prognosi, è effettivamente vero. Si è visto, in realtà, che quando il decorso, che quando la vita migliora, automaticamente quello che sono le risposte infiammatorie tendono praticamente a diminuire. Il periodo in cui si manifesta l'infiammazione oculare può anche variare perché, come dicevamo prima nella presentazione, può insorgere prima della manifestazione della malattia reumatica o può insorgere a volte dopo la manifestazione reumatica. Quindi vuol dire che io posso visitare un bambino che apparentemente i genitori non sanno che possa avere una malattia reumatica oppure questo ragazzo si presenta più avanti e si vedrà che ha un'infiammazione oculare conseguente a una patologia reumatica. E quindi questa grande variabilità nel presentarsi determina che dobbiamo avere un'attenta attenzione a questi pazienti che sono pazienti particolari, che vanno seguiti con un'attenzione particolare e sappiamo che i farmaci che purtroppo questi pazienti sono obbligati a prendere per attenuare, migliorare, attenuare quello che è l'evoluzione della loro patologia o migliorare la loro qualità di vita va a incidere praticamente su quello che è il decorso oculare. Quindi un precoce screening è indispensabile perché queste patologie possano non avere rilevanti cause poi sulla capacità visiva perché per esempio se noi non curiamo bene una patologia reumatica che va a scatenare una sintomatologia oculare possiamo avere delle iridociclite anteriore e l'iridociclite anteriore è praticamente l'attaccamento dell'iride al cristallino e se l'iride si va ad attaccare completamente al cristallino per questo effetto infiammatorio che c'è automaticamente ne consegue un attacco acuto di glaucoma quindi non vado a perdere quello che è la vista legato alla patologia oculare ma sarà una perdita della vista secondaria a quello che è stato l'evoluzione infiammatoria dell'occhio. E quindi quando si parla di malattie reumatiche si intende un ampio gruppo di patologie con un'ezio patogenesi e una prognosi molto diverse tra di loro e che hanno in comune l'interessamento delle strutture articolari e quindi è molto importante verificare sempre nel tempo e monitorare sempre nel tempo quello che è l'evoluzione di questa patologia oculare. Noi sappiamo che le malattie reumatiche hanno una forte influenza su quello che è il piano sanitario e economico sanitario perché sono patologie che possono creare delle invalidità e per quanto riguarda l'oculistica possono creare dei problemi abbiamo visto sia al carico della vista e quindi se abbiamo dei problemi a carico della vista conseguentemente abbiamo una limitazione di quello che è la capacità produttiva del paziente. Che cosa dire? Purtroppo le patologie reumatiche colpiscono un po' tutte le razze e a secondo del tipo di patologia possono interessare più un sesso più l'altro però facendo una classificazione di quello che è la totalità delle manifestazioni a livello oculare possiamo dire che sono abbastanza ben diffuse le une sull'altra. Andando ad analizzare la popolazione per fasce di età si può notare come le patologie reumatiche colpiscono principalmente la popolazione di età superiore ai 60 anni seguite dai pazienti compresi tra i 19 e i 60 anni e una popolazione giovane compresa tra i 18 anni. Io ricordo quando ero studente che lavoravo nella clinica universitaria che avevamo proprio un ambulatorio dedicato alle manifestazioni oculari dei bambini affetti da malattie reumatiche. Ed eccolo qua, le patologie pediatriche e reumatiche possono coinvolgere l'occhio, l'orbita, la periorbita quindi possono coinvolgere tutto quello che è l'apparato oculare tra le altre cose può coinvolgere anche il nervo ottico e può coinvolgere anche quello che è l'apparato vascolare dell'occhio. Ecco, vediamo come... Vedete, questa è una pupilla normale, vedete? Questa è una pupilla che praticamente si è cicatrizzata al cristallino. Vedete, qui praticamente la pupilla è totalmente cicratizzata alla lente sottostante e così il fluido che viene creato dall'occhio che se andiamo a ricordare dai tempi passati lo possiamo definire un moraqueo che viene prodotto dal corpo ciliare passa attraverso il cristallino che è questa lente e l'iride nella parte posteriore e attraverso il canale di Schlem viene praticamente assorbito dai vasi, dalle vene acquose esterne e quindi l'occhio all'interno viene praticamente sempre ripulito e viene praticamente sempre mantenuto in pressione ma se qui noi abbiamo una cicatrizzazione completa e quindi una seclusione pupillare completa quindi l'adesione dell'iride alla lente sottostante automaticamente non avremo più la possibilità di far uscire questo fluido quindi l'omoraqueo di farlo passare attraverso il canale di Schlem e quindi avremo un attacco acuto di glaucoma o una lesione alla testa del nervo ottico e quindi avremo un grosso problema perché il fascio di fibre nervose del nervo ottico fanno parte del sistema nervoso centrale per cui quando noi abbiamo una lesione del fascio delle fibre nervose del nervo ottico non abbiamo più la possibilità di ricostruire queste fibre neanche con un eventuale trapianto di retina in realtà si sta notando questo che le cellule fortunatamente non muoiono dall'oggi al domani generalmente e quindi esistono alcuni farmaci che tendono a riattivare le cellule che fortunatamente non sono state lesionate durante l'aumento della pressione vedete qua siamo quindi a una uveite anteriore con questa grossa infiammazione qui invece siamo a un'infiammazione della sclera questa parte qui che era bianca della sclera è diventata rossa perché un'alterazione di quello che è la circolazione sanguigna a livello congiuntivale e sclerale praticamente ha determinato questa infiammazione nessuno sa questo però bisogna sempre tenerlo o ricorda in pochi lo sanno che l'occhio all'interno è cavo per cui essendo cavo non ha una grossa circolazione si pensa perché essendo una cavità si pensa che non abbia una grossa circolazione perché i vasi dell'occhio è come un ghitale praticamente l'occhio all'interno è un po' come un ghitale quindi la parte anteriore non è vascolarizzata perché se no non si vedrebbe quindi questa parte qui non è vascolarizzata la parte interna è vascolarizzata solo per circa un millimetro che è determinata questa vascolarizzazione dalla congiuntiva, dalla sclera dalla coroide e poi dalla retina però questo millimetro legato anche a quello che è il nervo ottico determina e questo è strabiliante una capacità di erorazione di sangue nell'occhio pari a quattro volte la capacità che ha il rene di essere erorato quindi nell'occhio gira quattro volte la quantità di sangue che gira nel rene per cui a prescindere da quello che possono essere le patologie oculari attenzione bene quando un occhio diventa rosso a non farlo diventare estremamente rosso perché poi per farlo diventare bianco essendoci una grandissima quantità di sangue che gira all'interno dell'occhio può essere davvero un problema tanto che uno dei corsi di primo intervento che viene sempre fatto a tutti gli operatori di primo intervento di pronto soccorso è attenzione non sottovalutare mai un occhio rosso questo perché l'occhio è un organo dove la quantità di sangue in rapporto alla struttura dove gira questa quantità di sangue è estremamente elevato quindi le manifestazioni oculari possono includere le scleriti quindi un'infiammazione della sclera e lo possiamo notare qua oppure una vasculite retinica dove praticamente abbiamo questa infiammazione dei vasi all'interno dell'occhio qui possiamo notare praticamente le vene retiniche e qui le arterie e l'arteria ciliare retinica oppure delle uveiti che ci creano questo tipo di problema e l'uveiti è estremamente importante perché se poi ci fa aumentare la pressione oculare una pressione oculare determina anche un'opacizzazione della struttura corneale che in una malattia reumatica ci può anche essere con una che era topatia a bandeletta che poi andremo a vedere più avanti e questo è per quanto riguarda diciamo alcuni stadi però di queste affezioni naturalmente che noi abbiamo visto l'affezione più comune qual è? e l'uveite come si manifesta l'uveite? L'uveite si manifesta con una infiammazione praticamente della struttura interna che può essere intermedia se l'infiammazione è dietro il cristallino cioè la lente naturale dell'occhio che è quindi un'uveite intermedia oppure con un'uveite anteriore e quindi si può notare in un'uveite anteriore la formazione di questi grossi pigmenti che vengono definiti dall'oculista depositi a grasso di montone qua quello si vede molto meglio questa è frontale questa è dilato e allora a questo punto si vede molto meglio quello che è il discorso legato a questa infiammazione che cosa si fa in questa specifica situazione bisogna dilatare subito e non bisogna aspettare tempo bisogna dilatare subito la pupilla per far sì che le cicatrizzazioni tra il cristallino e l'iride siano il meno evolute possibile chiaramente ci sarà poi una cura da fare di solito a base di corticosteroide e questi corticosteroide che creano una forte riduzione di quello che è lo stato infiammatorio che si va a verificare nell'occhio però come tutti i farmaci hanno dei pro e dei contro per cui bisogna stare molto attenti quando si prendono dei corticosteroidi quindi del cortisone a quello che è la possibilità di aumento della pressione endoculare perché se il paziente che assume questi farmaci è un cortico risponder per cui risponde positivamente all'assunzione del cortisone avrà un aumento della pressione e automaticamente bisognerà prendere dei farmaci che lo tengono bassi tenendo sempre conto che quello che è la patologia che è collegata all'assunzione dei corticosteroide quindi del cortisone è anche quella della formazione della catarata quindi questi farmaci bisogna prenderli con molta discrezione e sotto stretto consiglio dell'oculista in modo da limitare il più possibile quello che sono gli effetti collaterali perché in un secondo tempo quando noi abbiamo tutte queste patologie correlate c'è la possibilità che automaticamente l'intervento per la sostituzione del cristallino che con l'utilizzo del cortisone si è andato ad opacizzare sia estremamente complesso quindi bisogna poi fare riferimento a delle strutture molto specializzate alla rimozione dello stesso avanti e quindi adesso iniziamo a vedere un po' quello che sono tutte le patologie come si suddividono quindi l'artrite idiopatica giovanile comprende un gruppo di artrite con insorgenza che va prima dei 16 anni e ha questa durata di 6 settimane di cui però non si conosce esattamente quella che è l'eziologia nei bambini procura una uveite che più nel 75 che in prevalenza nel 75% come avevamo visto prima è nella parte anteriore dell'occhio l'occhio è diviso un po' in due strutture nella parte anteriore quindi se dovessimo parlare di uveite parliamo di uveite anteriore o con un nome analogo con iridociclite se parliamo invece della parte posteriore andremo a parlare di uveite posteriore avanti fortunatamente è un'uveite anteriore non granulomatosa e il sesso femminile e alcuni sottotipi di artrite in giovane sono associati a un aumento di rischio per quanto riguarda lo sviluppo dell'uveite avanti in questo caso c'è da dire che l'uveite cronica è quella che maggiormente si manifesta quindi bisogna come in questo caso si diceva attenzione perché le uveiti purtroppo sono delle brutte bestie un pochino da trattare perché a secondo di quello che lo stato di salute del paziente possono essere ferme o possono manifestarsi quindi bisogna stare anche lì molto attenti a quello di utilizzare dei farmaci che mantengano tranquilla la situazione senza avere grossa paura nel sospendere quello che è un farmaco estremamente forte come a volte il cortisone nella classificazione di questi corticosteroidi quindi del cortisone esistono dei farmaci che penetrano più facilmente l'occhio o meno facilmente l'occhio quindi anche lì bisogna magari giocare molto bene con quello che tutte le tipologie dei farmaci a disposizione come corticosteroidi in modo da avere il minore effetto collaterale per quanto riguarda la struttura interna dell'occhio soprattutto a carico del cristallino avanti avanti possiamo andare ancora avanti dunque quello che era alla fine di questa patologia generalmente poi si conclude con una se ben controllata si conclude con una riduzione dell'acuità visiva estremamente contenuta la spondilortrosi giovanile è sempre una di queste patologie che crea anche lì una manifestazione oculare e qui presentano appunto delle incidenze diverse e come diceva prima il collega bisogna sempre stare molto attenti per quello che riguarda le manifestazioni riportate dei bambini quindi quando giustamente il collega che mi ha preceduto diceva quando arriva un paziente il paziente l'ha ascoltato e in realtà c'è ragione purtroppo la nuova medicina ci fa sempre ascoltare di bene i pazienti si dice sempre sì le macchine adesso mi raccontano tutto però arrivando da una scuola effettivamente che si diceva fai parlare il paziente perché il paziente te lo dice lui di che cosa è malato non hai bisogno di inventarti tante cose se lo fai parlare te lo dice lui effettivamente sono passati 25 anni da allora 30 anni adesso non so perché giovane 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 e automaticamente queste parole mi ritornano sempre in mente nonostante siano passati tanti anni e cerco sempre nonostante magari il tempo si riduca sempre di più per noi perché la burocrazia sta diventando adesso non per giustificare i colleghi però perché purtroppo la burocrazia si fa sempre più invadente nei nostri reparti però cerco sempre di ascoltare il più possibile il paziente perché effettivamente quando il paziente riesce a raccontarti bene di che cosa soffre che cosa ha e quelle che sono le sue manifestazioni cliniche generalmente ti ha già detto lui di che cosa ha bisogno e quindi è tutto molto più semplificato avanti dunque i pazienti generalmente in questo caso si presentano con una uveite stavolta anziché monolaterale bilaterale però fortunatamente anche in questo caso non è granulomatosa il coinvolgimento bilaterale oculare è comune ma di solito non avviene contemporaneamente avanti i bambini con spondilastrosi possono sviluppare quindi forte dolore fotofobia rossamento oculare il che differisce dalla malattia sintomatica dell'artite idiopatica giovanile oligoarticolare l'ipopion che è praticamente un addensamento biancastro che si va a formare all'interno della camera anteriore quindi tra la cornea che è trasparente e se noi lo volessimo paragonare a un orologio sarebbe il vetrino dell'orologio quindi quella parte trasparente più anteriore possibile dell'occhio che è l'iride e generalmente intorno a un millimetro a un millimetro e piano piano con terapia adeguata si va a risolvere facilmente senza di solito se preso in tempo precoce lasciare degli effetti collaterali avanti eccolo qua qui possiamo vedere praticamente questo è l'iride vedete c'è una sorta qui abbiamo una compliance di patologia abbiamo una infiammazione del tessuto congiuntivale palpebrale quindi del tarso abbiamo una congiuntivite un po' di episclerite e abbiamo questa formazione di popium qui il paziente è stato ritardato a farsi vedere e praticamente vedete che la circonferenza della pupilla non è perfettamente anulare vedete stanno iniziando a formare delle sfrange e queste sfrange praticamente sono lo sfaldamento dell'iride che si va come se fosse una ragnatela che si va praticamente ad attaccare alla lente sottostante chiaramente questo è estremamente pericoloso perché vedete come la cornea incomincia questa parte trasparente che dovrebbe essere perfettamente trasparente perde la sua trasparenza e perdendo la sua trasparenza determinata da un aumento della pressione intraoculare può portare poi a un attacco acuto di glaucoma anche perché questa formazione biancastra va a limitare la fuoriuscita va ulteriormente a limitare la fuoriuscita di umoracqueo dall'interno dell'occhio all'esterno dell'occhio nell'occhio noi produciamo continuamente l'umoracqueo e tanto ne viene prodotto e tanto ne viene ne deve essere praticamente tirato fuori iscreto quindi se c'è una discrepanza tra quanto ne è prodotto e quanto ne viene praticamente assorbito dalle vene acquose esterne si avrà un aumento della pressione aumento eh perdono avanti quindi le uveite bisogna sempre tenerle anche sempre bene sotto controllo è opportuno quando si ha un paziente affetto da questa malattia oculare andare subito alla ricerca di quello che può essere più o meno verosimilmente il fattore scatenante sempre che non si sappia che già il paziente affetto da di quello che possono essere le concomitanze che hanno portato allo sviluppo della malattia quindi ogni volta che si vede una uveite intermedia un'uveite anteriore è bene correre subito a quello che è un'indagine di laboratorio estremamente ampia estremamente ben fatta avanti e chiaramente i pazienti con positività all'HLA B27 dunque possono sviluppare un'uveite associata ad altre patologie infiammatorio e quindi questo senza ombra di dubbio richiede un trattamento immediato avanti la sindrome di Sjogren è un'altra problematica che si va a presentare e generalmente si presenta il paziente si presenta dall'oculista perché ha l'occhio secco e automaticamente c'è da dire che la sindrome di Sjogren come malattia primaria dell'infanzia è estremamente rara 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 di solito è associata già ad altre malattie e nella sindrome di Sjogren avanti è molto importante lo strato corneale è estremamente lubrificato oggi abbiamo parecchi sostituti lacrimali che ci consentono di mantenere la superficie oculare ben idratata e mantenere la superficie oculare ben idratata vuol dire evitare quello che possono essere associati a patologie legate alla secchezza oculare perché se io riesco ad avere una superficie oculare ben lubrificata a questo punto posso eliminare con facilità quello che sono gli possibili insulti che si vanno ad attaccare alla cornea quindi lavarla via velocemente avanti eccolo qua vedete che cosa succede noi abbiamo visto prima come la cornea debba essere perfettamente trasparente vi hanno detto che il vetrino di un orologio per far sì che il quadrante sia visto perfettamente bene deve essere trasparente ma se invece si opacizza vedete che automaticamente la luce non riesce più a passare all'interno dell'occhio e di conseguenza si vanno a creare quelle insufficiente visive che sono molto fluenti su quello che è la qualità della vita perché se questa situazione colpisce un occhio solo la compromissione della qualità della vita sarà limitata ma se colpisce tutti e due gli occhi capite bene che il paziente automaticamente essendo questa lesione inferiore non riesce per esempio più a camminare se sfortunatamente si ritrova anche che non ha l'ascensore in casa è finito è finita praticamente la storia ha bisogno praticamente sempre di un accompagnatore quindi è molto importante nella sindrome di Chogren non arrivare mai ad avere la superficie disidratata perché questo evita praticamente che si possano poi andare a formare questo tipo di lesione che è una ricostruzione di un ulcera corneale avanti e quindi quando noi ci troviamo di fronte a una sindrome di Chogren andiamo a fare subito lo Schirmer test che sono quelle cartine bibule che vengono messe all'interno dell'occhio e se qualcuno le ha già fatte sanno si ricordi sempre che la misura deve essere superiore ai 5 mm di bagnatura di questa cartina bibule perché così non si va incontro a quello che è l'acchierato congiuntivite sicca oggi è fortunato questo è un po' il minimo termine per stabilire quello che è la qualità del fin lacrimale però oggi si ha la possibilità di migliorare molto quello che è il contenuto del fin lacrimale perché si hanno degli integratori dietetici che rinforzano molto il fin lacrimale e soprattutto ci si è accorto che in queste condizioni liberando quello che sono le ghiandole di mevovio che sono sul tarso palpebrale quindi dove le donne si fanno il rim mettono il rim e la matita nera tanto per intenderci liberare quella struttura permette alle ghiandole di mevovio di secernere molta più parte lipidica che miscelandosi con la lacrima permette di mantenere una buona superficie oculare ricordatevi sempre che la lacrima non è solo acqua ma le lacrime sono formate da tre elementi dall'elemento acquoso dall'elemento disinfettante e dall'elemento lipidico tutti questi tre elementi per la buona nutrizione e lubrificazione dell'occhio devono essere sempre miscelati molto bene tra di loro quindi è molto importante quando soprattutto per le donne magari soprattutto per i giovani per le giovani donne detergere bene le palpebre dopo il trucco perché il trucco ha la colla e la colla che va ad attaccarsi sulle ghiandole di mevovio non permette praticamente l'estercione della parte lipidica della lacrima avanti oltre a quello che la cartina bibula quindi è lo Schirmer test che è il test più comune e maggiormente conosciuto si può anche andare a colorare la superficie oculare oppure in questi anni è stata praticamente inventata un'apparecchiatura che va a ricanalizzare le ghiandole di mevovio e quindi a ricanalizzare a far rifunzionare in buono stato tutte le ghiandole di mevovio che sono 40 sopra e 20 sotto quindi sono 60 ghiandole per occhio che noi abbiamo che ci permettono di lubrificare con la parte lipidica della lacrima l'occhio nel migliore dei modi avanti e quindi abbiamo visto prima quali sono alcune complicanze e poi bisogna stare come si diceva prima la neurite ottica quindi quello che può essere la parte legata al nervo ottico quindi noi non possiamo mai in presenza di una malattia reumatica sottovalutare quello che è la manifestazione oculare o sottovalutare quello che è una visita oculistica perché è sempre una malattia complessa e come diceva la ragazza prima sembra sempre qualcosa di nuovo ma in realtà non è qualcosa di nuovo non è qualcosa che si deve scoprire ma è che ogni paziente purtroppo anche lo stesso paziente manifesta in funzione del suo stato di benessere di quel momento la patologia ricordo di una paziente che perché gli era venuta la catalatta continuava a manifestare un'oveite intermedia con molto coraggio si prese forza e ormai non ci vedeva più praticamente si andò a operare la cataratta e da quel momento non manifestò più l'oveite era sempre la stessa paziente per di più operata quindi un intervento è sempre un insulto un insulto e un insulto è praticamente porta a un'infiammazione ma portava un'infiammazione su un tessuto già infiammato perché aveva l'oveite quindi ecco da dove si è preso il coraggio di operarla tanto ormai non vedo più però da quel momento la paziente non ha più manifestato l'oveite intermedia quindi il suo vitrio è sempre stato perfettamente trasparente quindi non prendeva più farmaci non manifestava non ha più manifestato la malattia aveva solo migliorato la sua qualità di vita e di questo ne abbiamo tanti casi quindi difficile cioè quando c'è un paziente con malattia reumatica è davvero difficile trattarlo per cui anche per gli altri colleghi che stavo ascoltando prima complimenti perché la pazienza che ci vuole l'attenzione che ci vuole e l'accortezza che ci vuole per questi pazienti effettivamente deve essere sempre estremamente elevata avanti possiamo andare avanti così saltiamo la malattia delle tepe e poi ok andiamo andiamo avanti tanto è un'altra malattia sempre giovanile avanti avanti perché ormai il tempo sta andiamo andiamo avanti e vedete che ce ne sono tante solo che l'oculistica è bellissima ma è talmente grande che poi ce ne sono ok andiamo andiamo avanti 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 la malattia andiamo avanti eccola qua vedete come nelle malattie reumatiche ci possiamo avere tante tante problematiche tenete presente che qui siamo nella malattia di Beshecon quindi con queste manifestazioni avanti ma avanti avanti abbiamo manifestazioni sempre nella stessa ah no dietro di una abbiamo nella stessa manifestazione vedete anche la manifestazione oculare vi ricordate come era l'occhio estremamente irrorato con quei vasi bellissimi che si vedevano prima con la macula che era perfetta qui abbiamo una macula perfettamente atrofica e dei vasi che sono praticamente scomparsi totalmente e una testa del nervo ottico che praticamente ormai di sangue non ha più niente ed è totalmente atrofica e questo vedete come nelle malattie reumatiche bisogna sempre stare estremamente molto attenti avanti vedete ecco questa l'iride vedete l'iride poi da rotonda da piccolina rotonda se si interviene con ritardo come poi perde tutta la sua capacità di ristringersi qui ormai il muscolo sfintero interno non c'è più perché se n'è andato e quindi la pupilla per sempre rimarrà così fortunatamente si può fare una plastica pupillar quindi si può riportare meccanicamente strutturandola la pupilla lo stato naturale perché chiaramente per chi soprattutto vive nelle zone climatiche ad alta luminosità praticamente si ritroverebbe con poi alterazioni sulla retina perché è come se facesse sempre le saldature avanti e quindi qua vediamo che quello che abbiamo visto prima adesso qui siamo un po' a quello che è il discorso che richiude tutto quello che sono le patologie in questo caso nelle uveiti intermedie o nelle pasplaniti magari abbiamo malattie che si manifestano da sole senza essere magari associate a altre patologie però generalmente vedete che anche in questo caso quando noi ci troviamo di fronte a un'uveite generalmente abbiamo sempre comunque o una patologia reumatica oppure una eziologia infettiva avanti avanti perché il tempo ormai sta andando avanti 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 ok vedete come tutte queste patologie vanno a creare delle problematiche vedete questo è il primo andamento quindi questo paziente non è stato è stato tirato avanti vedete qui non è stata tirata via questa cheratopatia bandeletta non è stata operata la cataratta vedete qui l'iride si stava praticamente incollando a distanza di anni la cheratopatia a bandeletta si è praticamente intensificata e la cataratta ha praticamente preso il sopravvento finito grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.